ciao a tutti ragazzi oggi proviamo a montare smontare e faremo anche un test di impermeabilità per questa saleva light track adesso inizio facendovi vedere un po quello che troviamo all'interno della confezione della sua sacca e poi appunto procediamo col montaggio inizio a parlarvi per quanto riguarda la sacca allora la sacca è abbastanza contenitiva non è troppo piccola quindi può essere anche semplice rimetterla all'interno e si può aprire chiudere tramite questa fettuccia in questo modo potremo anche ridurne ancora le dimensioni come vedete ci sono altre due fettuccine per poter ridurne ancora le dimensioni faccio vedere quello che troviamo all'interno allora abbiamo una prima taschina in cui troviamo picchetti triangolari con tre punte ce ne sono abbastanza quindi potrete tranquillamente picchettarla e poi all'interno ci sono anche le varie fettucce per andare a picchettarla ulteriormente mettere quelle anti vento nel caso essere una notte abbastanza ventosa e comunque c'è tutto il necessario per montarla non c'è bisogno di prendere robe a parte quello che volevo fare vedere che all'interno troviamo anche questa taschina bianca in cui all'interno abbiamo vabbè innanzitutto il foglio con scritto che come utilizzare la tenda che bisogna fare attenzione al fuoco eccetera perché tutte le tende ricordate possono prendere fuoco all'interno troviamo diversi tipi di tessuto in base alla zona della tenda che va a rompersi perché in caso si dovesse rompere abbiamo la colla anche per andare a riattaccarla quindi possiamo benissimo metterla a posto inoltre abbiamo un pezzettino di ferro nel caso dovesse rompere un palo della tenda da poter utilizzare per continuare a utilizzare la tenda anche con un palo rotto quindi questo viene dato come kit base da saliva che può sempre tornare utile in caso succede qualcosa alla tenda all'interno poi naturalmente troviamo la tenda e all'interno della tenda se vado ad aprirla troviamo la paleria e basta tutto qua questo quello che c'è all'interno della della tenda adesso vediamo insieme invece come montarla iniziamo dunque il montaggio di questa tenda come prima cosa andiamo a stendere la tenda per terra molto semplicemente ora prima di picchettarla iniziamo con la palleria perché io la picchetto successivamente come più semplice picchettarla come palleria troviamo due tipi diversi di pali per intenderci troviamo due pali che sono lunghi due metri e mezzo tre e sono quelli che andranno a costituire la struttura principale della tenda poi invece troviamo un successivo palo mentre io vado a montarvi ve li spiego troviamo successivo palo che all'estremità arancione e quello invece serve per la per la veranda quindi vedete abbiamo un primo palo che è abbastanza lungo vado a formare anche il secondo poi pali comunque molto semplici da montare classici col tensore interno che vanno a montarsi da soli per montarla attenzione perché questa tenda un po particolare di solito noi cosa facciamo inseriamo il palo dall'esterno verso l'interno della tenda per far sì che la struttura centrale nel punto centrale della tenda sia coperto questo invece lavora al contrario andiamo a inserire il palo nella parte finale della tenda quindi dove poi andremo a picchettarla e la struttura centrale dove si incontrano i due pali quella resterà scoperta più difficile a spiegarvelo che a farvelo vedere quindi partiamo lo montiamo e vedrete che capirete subito innanzitutto quindi andiamo a montare il primo palo il punto in cui bisogna inserire il palo è caratterizzato da una fettuccia quindi non potete sbagliare a questo punto andate a inserire il palo all'interno semplicemente spingendo e questo arriverà a fine corsa da solo e non dovrete fare altro ora vi faccio vedere facciamo la stessa cosa dal lato opposto da quest'altra parte dovremo fare esattamente lo stesso movimento quindi prendiamo il punto della fettuccia andiamo a piegare il palo finché non lo inseriamo dentro poi vedete entra anche abbastanza da solo attenzione perché dovrete piegare abbastanza al palo perché naturalmente va piegato di più rispetto a quanto sarà la sua sede originale proprio per farlo entrare all'interno del suo binario i pali comunque sono molto molto malleabili quindi non c'è il rischio che il palo si rompa quindi molto semplice poi molto semplicemente continuiamo con l'altro palo quindi vado a prendere la fettuccia inserisco all'interno il palo fino a fine corsa idem dall'altra parte dovrò piegarlo abbastanza prenderò la fettuccia e l'abbiamo inserito anche lui ora possiamo iniziare a mettere i vari gancetti in modo tale che poi la tenda prenda la sua forma altro passaggio come vedete la tenda ha già preso la sua forma è quello di andare a prendere il palo quello già precurvato come vedete ha già una sua curvatura di colore grigio e anche lui andrò a inserire dall'interno della fettuccia laterale quindi fettuccia grigia palo grigio e idem da quest'altra parte molto semplicemente allo stesso modo poi prenderò i gancetti della tenda e andrò a metterli attaccati al palo come vedete la tenda ha preso tutta la sua struttura molto semplicemente ora procediamo col picchettarla almeno nei quattro o barra sei punti principali il mio personale consiglio quando la montate il frattempo io inizio a montare i picchetti è quella di picchettare sicuramente i quattro angoli della tenda quindi sicuramente questi ma perché in questo modo la tenda sicuramente sarà più larga all'interno e combatterà meglio in caso di leggero vento perché in caso di forte vento cosa che adesso io non andrò a fare perché fortunatamente oggi noi non abbiamo tanto vento si possono aggiungere i cordini esterni quindi volendo abbiamo anche sei cordini come vi ho fatto vedere prima che i picchetti aggiungo che io picchetterei non solo i quattro lati i quattro punti estremi ma anche il punto mediano dove poi va a finire il palo della veranda picchetterei anche questo sia da una parte che dall'altra perché apre ancora un pochino la tenda e fa sì che passi un pochino più aria fa sì che ci sia meno condensa nel caso la notte all'interno dunque smontiamo la tenda allora io ho già tolto i picchetti per comodità così andiamo più veloci prima cosa da fare è togliere tutti i gancetti questi molto semplici quindi è quasi divertente anche toglierli ecco qua e li abbiamo tolti tutti adesso vi faccio vedere un trucchetto per smontarla veramente molto semplicemente iniziamo dunque a togliere il palo lo tolgo e questo qua è veramente molto semplice poi magari pian piano lo faccio su così siamo a posto e anche di qua posso sfilarlo e questo esce veramente molto facilmente guardate invece cosa succede se io provo a tirare questo guardate praticamente è rimasto all'interno una parte questa cosa qua succede molto spesso perché tirando noi indietro il palo va a finire che il palo proprio si disassembla quindi noi cosa dovremmo fare rinserire tutto all'interno e non tirarlo un'altra volta se no succede un'altra volta il trucco è quello mettiamo una mano sotto andiamo a raccogliere un po' la tenda in questo modo come vedete questa parte già sfilata io lo devo fare un'altra volta praticamente invece di andare a tirare il palo lo vado a spingere così spingendolo evito che il palo si possa aprire ed è molto più semplice davvero a questo punto continuare e smontarla definitivamente continuiamo dunque vabbè vado a tirare via anche l'altro palo utilizzando sempre la stessa tecnica perché vi assicuro è veramente molto comoda attenzione quando andate ad aprire i pali perché comunque essendo in tensione dovete un po' tenerli perché se vi sfuggono partono partono e c'è il rischio di farsi male quindi mi raccomando quando smontate i pali ben mano ferma e non lasciatevi sfuggire quindi raccolgo tutto e lo andiamo a inserire nella sua sacchettina così è tutto ben raccolto e non abbiamo problemi la prossima volta che vorremmo montarla adesso vi faccio vedere come chiudere la tenda molto semplicemente allora vabbè si è un po' fatta su quindi magari andiamo a riaprire il mio consiglio è quello di chiudere come se fosse una tovaglia quindi mettiamo all'interno tutto il materiale della tenda la parte esterna deve restare solamente il perimetro del pavimento nella parte esterna ok così a questo punto io la prendo la vado a chiudere di qua una volta una volta due e tre ok c'è un po' d'aria vabbè questo lo facciamo su vado a prendere la paleria e la raccolgo in questo modo attorno alla paleria in questo modo andrà a uscire anche tutta l'aria che c'è all'interno ok a questo punto una volta che abbiamo raggomitolato la nostra tenda ci basterà semplicemente inserirla all'interno insieme naturalmente ai picchetti perché la paleria il resto è già dentro e basta noi andiamo a mettere la copertura tiriamo andiamo ad agganciare i nostri laccetti laterali in modo tale da poterla richiudere e farla diventare bella piccolina magari tirandoli anche un pochino ed ecco qua la nostra saleva light track richiusa ora che abbiamo visto come montare smontare la tenda possiamo passare al test dell'impermeabilità eccoci qua è passato qualche giorno dalle riprese che avete appena visto come vedete è cambiato decisamente il tempo questo perché sono andato a rimontare la light track per fare il test di impermeabilità ovvero in cosa consiste questo test nelle prossime 24 ore finalmente qua al nord arriverà una bella scarica d'acqua e aggiungo finalmente quindi cosa facciamo io lascio qua la tenda per 24 ore faccio sì che tutta l'acqua che verrà giù dal cielo questa tenda se la prenda tutta e domani verremo a controllare se dell'acqua è entrata all'interno non ho fatto nulla di particolare alla tenda se non montarla picchettarla giusto perché se si alza un po il vento almeno non va in giro e niente adesso aspettiamo che inizia a piovere non ci vuole tanto e quindi ci rivediamo domani a vedere se la tenda ha retto giusto per farvi capire questa è l'acqua che prevedono nelle prossime ore oggi per il giorno un po di buco ma guardate stasera stasera dovrebbe arrivare proprio una bella bomba d'acqua bella potente e poi andre dovrebbe andare avanti abbastanza tutta notte fino a domani eccoci qua sono passati più di 24 ore vi assicuro che tra ieri e stanotte è un ha fatto veramente tanta acqua uno di quei temporali che qua al nord non si vedevano ma penso da un anno e oltre quindi è stato un test secondo me perfetto io non l'ho ancora aperta adesso andiamo a vedere se si è bagnata all'interno mi sono procurato un pezzo di giornale che andrò a utilizzare per verificare che non ci sia acqua all'interno semplicemente passandolo un po sulle pareti in questo modo se ci sarà acqua all'interno il giornale si bagnerà e sarà molto semplice andare a capire se c'è acqua o no cioè niente facciamo la prova della verità procediamo dunque ad aprire la tenda vabbè come vedete già qui esterno è un po bagnata quindi vabbè quello è normale almeno nella parte esterna allora sperate che quanti rovis ok la vado ad aprire completamente aperto vedere un po quale erba qui l'erba è un po bagnata è quella che era dentro adesso verifichiamo ora aprire anche la parte interna ok allora vediamo un po c'è qualche macchietta d'acqua ma penso che sia esterna vedere un po io passo no qua c'è un po d'acqua qui c'è un pelo d'acqua guarda qua qui c'è un po d'acqua c'è un po d'acqua solo in questo punto però mi sembra è solo in questo punto guardiamo agli angoli che di solito poi l'ho messa un po inclinata proprio per far sì che l'acqua scorresse lì in giù c'è un po d'acqua qua infatti adesso passo questo vedete che si è un po bagnato entriamo vabbè è un po sporca ma quella era sporca ancora prima di iniziare per il resto quest'acqua che vedete è probabilmente si è bagnato sotto sotto nella il catino della parte esterna della tenda però anche andando a guardare anche qua negli angoli non c'è acqua non c'è acqua quindi vediamo poi le pareti lo passo un po ma non sembra che ci sia acqua no 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 l'unica cosa era qua così era qui così che c'era entrata un po d'acqua qui ma sembra essere piovuta dall'alto però in alto c'è forse solo la cucitura non c'è la parte di zanzariera qui qui così ma non c'è altro a parte tutti gli insetti come vedete poi ho tenuto chiusa anche la cerniera che serve per areare quindi era tutta chiusa diciamo che allora qualche goccia è entrata qualche goccia è entrata dunque tiriamo un attimo le somme per questo test impermeabilità secondo me è riuscito al 99 per cento come avete visto qualche goccina l'ho trovata questa cosa vuol dire secondo me non è tanto un problema di impermeabilità della tenda perché vista tutta l'acqua che ha fatto se fosse dato un problema di impermeabilità ci avremmo trovato un lago non tre gocce secondo me quelle tre gocce sono di una qualche cucitura interna probabilmente che non ha retto bene quindi magari c'è una qualche cucitura che non è fatta bene magari si è un pochino strappata secondo me allora ci può stare perché tenete conto che queste tende soprattutto se le comprate online magari vengono tenute chiuse per anni 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 e trattate male quindi ci può stare che ci sia magari una qualche cucitura che ha un pochino di buchino bisognerebbe capire qual è e mettere un po di fissante in modo tale da chiudere questo buchino penso che il problema delle tre gocce sia questo non che sia un problema della tenda io direi che il test ha funzionato direi che la tenda è impermeabile direi che possiamo utilizzarla tranquillamente anche in alta montagna senza aver paura di bagnarci arriviamo dunque alle conclusioni per questa saleva light track in questo caso due persone come avete visto il montaggio lo smontaggio è veramente molto semplice intuitivo l'unico consiglio che vi do è quello appunto di non tirare i pali ma di spingerli in modo tale che il palo non si disassembla e non diventi più complicato per il resto che dire per quanto riguarda il montaggio smontaggio davvero molto molto semplice impermeabilità l'avete visto anche voi ha tenuto naturalmente quando vi arriva la tenda dateci un occhio se magari ha qualche cucitura che potrebbe essersi un pochino sfaldata col tempo che può capitare perché chissà come tengono le tende nei magazzini quindi meglio non saperlo e per il resto ragazzi questa era il montaggio smontaggio test impermeabilità ci vediamo tra una settimana invece con la recensione completa ciao